Luci soffuse, volume basso per i bimbi in sala, ma non solo, anche i papà, i nonni, gli zii e chiunque non voglia rinunciare al piacere del cinema, finalmente potrà vedere un film in prima visione in compagnia del suo bimbo. Tutto questo è Cinemamme Arezzo, un progetto che verrà portato avanti al Cinema Eden di Arezzo. Una cosa speciale per la famiglia e per le mamme che riescono per la prima volta ad andare tranquillamente al cinema anche avendo un figlio a carico. Quindi una giornata che inizierà il 23 ottobre e ci sarà un appuntamento una volta al mese aperto a queste condizioni speciali. L'obiettivo è quello di creare uno spazio a misura di bambino e di neonato, quindi ci sarà una sala di vita con le luci soffuse, le tisane, qualcosa naturalmente da mangiare, in bagno ci sarà il fasciatoio, ci sarà il vasino, ci saranno i pannolini, tutto quello che può servire alla mamma anche per un cambio del proprio bimbo. L'entrata sarà agevolata perché l'ingresso costerà 5 euro, i bimbi dai 5 anni in giù non pagano, dai 5 anni naturalmente in su pagheranno sempre però 5 euro e in più offriamo anche la possibilità di lasciare, se i genitori hanno piacere, il proprio bambino a fare un laboratorio creativo durante la proiezione del film che dura due ore e se ne occupa una nostra collaboratrice, la Cinzia, che farà appunto un laboratorio creativo sull'autunno. Entriamo alle 10, di modo che le mamme si sistemano, le mamme possono bere infatti nel frattempo una tisana, insomma, a chiacchierare con le altre mamme, le altre famiglie, il film inizia alle 10 e mezzo e il primo sarà Piuma, un film molto leggero anche premiato a Venezia e finirà intorno a mezzogiorno.